buonasera allora io continuo con il mio filone di video propositivi poi l'ho già detto se la juve dovesse smentire subito la tendenza mostrata con la tendenza ok la tendenza mostrata contro il torino è chiaro che ne prenderò atto e i video propositivi e potranno finire sotto l'ucio per non usare qualche altra espressione qualche altro termine ok allora perché mi viene in questo periodo di fare questi video propositivi per le notizie che arrivano ragazzi perché se è vero che fermo i box adesso bremers è vero che ancora fermo i box questo strano soggetto non oggetto soggetto che ogni tanto veste la maglia bianconera che è di maria 7 partite su 14 33 33 minuti giocati con le due fino adesso un gol e 4 assist e un'escursione va bene è anche vero che arrivano belle notizie sul fronte dei grandi infortunati di chiesa abbiamo già parlato ma torniamo a parlarne oggi è stata la volta di queste bellissime immagini queste nel senso guardatele non le ho io perché non non posso girare filmati e nessuno può girare filmati quelli sono filmati ufficiali della juventus li trovati su altri siti sono stati presi dal dal dei social ufficiali della juventus di pogba che si è allenato con il gruppo c'è stato l'abbraccio con danilo le pacche sulle spalle landucci tutti gli altri compagni eccetera perché anche per loro insomma è una novità importante non succedeva da agosto da quando la juventus era in tournée la tournée in america negli stati uniti e quindi diciamo che è stata una bella sorpresa perché ovviamente i compagni si parlano se l'aspettavano e c'era mai stato un bel effetto vedere pogba sorridente perché innanzitutto conta lo spirito e lo spirito di chi rientra anche solo su un terreno di allenamento ovviamente al massimo al settimo cielo poi lui ha avuto anche altre vicende le ha in corso altre vicende stragalcistiche piuttosto pesanti e non dimentichiamo mai questa questo questo particolare della sua vita diciamo privata che poi è diventata pubblica ma poi l'abbiamo visto anche muoversi in queste immagini bene col pallone girarsi tirare con le sagome tutto parzialmente col gruppo cosa vuol dire che nel momento in cui poi la squadra ha lavorato sulla tattica sulla partitella eccetera eccetera chiaramente lui non ha preso parte perché non è ancora il momento non c'è una data precisa che riguarda pogba perché già erano partite le indiscrezioni sulla sua presenza addirittura contro il benfica la settimana prossima ma la vedo difficile che possa essere in campo contro benfica ieri sono state le parole di dechamps che ha detto lo convoco se guarisce ma ho molta fiducia nel fatto che guarisca cioè secondo me guarisce quindi ha dato un'inizione di fiducia a pogba alla nazione francese e in primis alla juve perché perché la guarigione che poi può portare alla convocazione di pogba per i mondiali può avvenire solamente attraverso il test di una o più partite ce ne sono quattro nel mese di agosto c'è juve paris saint germain vediamo per cosa servirà poi c'è juventus inter attenzione juventus inter verona juventus e juventus altro tra l'altro in juventus inter potrebbe rientrare pogba potrebbe esserci chiesa potrebbe rientrare di maria e potrebbe rientrare bremer quindi diciamo che la juve potrebbe avere potrebbe col condizionale ma molto 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 ampio e con molta cautela con molta calma però potrebbe avere a disposizione quattro pedine insomma diciamo pure di un certo peso per quella partita lì ma l'affronteremo il discorso più avanti quindi poi qua cosa può dare formale a juventus e cosa potrà dare formale a juventus lo sappiamo tutti chi è pogba abbiamo avuto la possibilità di vedere questo giocatore all'opera dare allora il massimo di se stesso che non è più stato replicato negli anni dello united ce lo siamo detto tante volte il pogba dello united forse quello che si è visto i primi sei mesi non lo so ma nemmeno era calato anche come immagine pubblicitaria come icona del calcio era sempre era rientrato ai margini anche di tutto quel battagio pubblicitario che lo aveva avvolto diciamo così accompagnato nel suo trasferimento dalla juve al manchester united le prestazioni sono state sicuramente sotto il livello al quale eravamo abituati a vederlo esprimersi sono riuscito a dire questa frase qua senza incasinarmi e ho molta fiducia nel fatto che pogba possa ripetere un certo tipo di prestazione con la juve è un giocatore maturato come giocatore come uomo chiaramente adesso tutta l'incognita riguarda il buon esito eventuale dell'intervento cui si è sottoposto ve lo ricordo è quella via di mezzo non è l'intervento risolutivo con la struttura sarebbe stato fermo quattro mesi la terapia conservativa era andata a farsi e quindi ha scelto l'intervento normale al menisco tutto dipende da quello ma dal punto di vista tattico pogba oltre al discorso dell'esperienza al discorso della fisicità perché vederlo oggi muoversi lì in mezzo ti rendi conto di che stazza è questo giocatore che stazza a questo giocatore ma poi è la classica mezzala sinistra che può essere impiegata nel 4 3 3 nel 3 5 2 oppure nel 4 4 2 cioè pogba non lo togli mai da questo tipo di schieramenti anzi fatemi sapere secondo voi qual è lo schieramento tattico migliore nel quale inserirlo mi fa strano è parlare di pogba in questi termini perché ci eravamo abituati a sentire parlare di lui come di un oggetto misterioso un altro soggetto misterioso nel senso che era fuori però insomma adesso è venuto il momento anche di inquadrare un po quella che potrebbe essere le due con pogba e con federico chiesa federico chiesa anche lui inseribile tranquillamente in un 4 3 3 in un 3 5 2 in un 4 4 2 addirittura come attaccante a supporto di vlaovic tra l'altro lì tornerebbe a giocare col suo amico fraterno cosa che mancava dai tempi della fiorentina quindi ragazzi c'è veramente mi sto immaginando una juve poi lavorare di fantasia non costa nulla ma non è questione di fantasia è la juve che si era immaginata quest'estate e che potrebbe ripeto sempre col grande condizionale ma potrebbe materializzarsi anche a breve cioè prima del mondiale per poi si spera consolidarsi dopo il mondiale del catar ed è bello poter finalmente affrontare questo tipo di discorsi sono parole lo so sono parole non sono fatti li aspettiamo i fatti infatti sono parole però ragazzi sono due calciatore cioè non è che hanno smesso di giocare sono sulla fase del recupero sulla via del recupero e sono vicini a tornare a disposizione di allegri della juventus di tutto il mondo juventino che li sta aspettando come se fossero i salvatori della patria ma anche anche sì perché ma perché perché si tratta di due giocatori di uno spessore enorme che hanno già verificato la juventus nella loro vita chiesa compirlo e l'anno scorso con allegri e poi va negli anni di allegri nei primi anni di allegri quindi non sono due sconosciuti da buttare dentro sono due persone che sanno cos'è la juve hanno già sperimentato la juve e vogliono dare tanto la juve fatemi sapere cosa ne pensate anche della loro collocazione tattica che juve vi immaginate con in campo loro due incrociamo naturalmente le dita soprattutto per loro per i ragazzi che dei quali si comincia a parlare in senso di campo di partita di agonismo di gol di tattica eccetera e iscrivetevi naturalmente al canale noi ci vediamo domani con come sempre il doppio appuntamento doppio video di giornata tutto ciao a domani ciao ciao ciao